I bagnanti che hanno visto l'alta colonna di fumo sprigionarsi dal barcone alla deriva a largo della spiaggia di Praia Longa, vicino isola Caporizzuto, in Calabria, parlano di una scena agghiacciante. Decine emigranti a bordo dell'imbarcazione che la Guardia di Finanza stava rimorchiando verso il porto di Crotone, quando per cause, ancora da accertare, prima è divampato un incendio, poi si è verificata una forte esplosione. A decine si sono gettati tra le onde. Tre, tra cui una donna, sono stati travolti dall'onda d'urto. Poche ore dopo, i loro corpi sono stati recuperati in mare. Le fiamme e i detriti hanno investito anche due finanzieri che al momento dell'esplosione si trovavano a bordo dell'imbarcazione. Uno ha riportato fratture alle gambe, l'altro è rimasto ostionato. All'Ampedusa, 400 arrivi nelle ultime ore. Il primo cittadino denuncia quello che definisce un inaccettabile silenzio da parte del governo Conte.